Questo è grave e ovviamente in questo si va ad inserire anche il progetto Cantaballo. Certo, sicuramente il progetto Cantaballo è utilissimo anche come educazione familiare. Che cosa si intende? Educare le famiglie a capire e ad entrare nel mondo del movimento e dell'attività fisica. Ecco quindi anche il ruolo dei genitori. Certamente è importantissimo, altrimenti i bambini che hanno come guida la famiglia non saprebbero che cos'è il movimento, ma è il genitore o entrambi i genitori che devono condurre alla guida del movimento. Grazie.